Un bambino è stato investito mentre attraversava la strada da un'automobile in transito questa mattina in via Rosa Iemma. Il piccolo è stato prontamente soccorso e trasportato presso il vicino ospedale Santa Maria della Speranza dove sono stati effettuati gli accertamenti del caso al fine di scongiurare gravi lesioni. Per tale motivo è rimasto sotto osservazione per qualche ora. Le sue condizioni in ogni caso sono apparse buone. Sul luogo dell'accaduto le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica del sinistro.